Le principali organizzazioni internazionali, come la NAPO, le Nazioni Unite, l'Unione Europea, e i numerosi organismi multinazionali, nello scenario mondiale. Un contributo che si può sintetizzare. 7.300 militari impegnati in 34 differenti missioni, dall'Africa sub-Sahariana ai Bartali, dal Libano al Medio Oriente, fino alle acque del Mediterraneo e dell'Oceano Indiano, ai celli del Nord Europa, oltre al fianco orientale dell'Europa. Guarda dove sono. Una partecipazione finalizzata a difendere i principi universali di democrazia, affermazione dei diritti a tutela della libertà, attraverso l'insieme di attività, chiama come scopo quello di garantire la sicurezza, la stabilità e la pace in numerose aree del cuoio. Si tratta di operazioni nelle quali le forza mare non è lungo altissimi livelli al mondo, affermandosi una componente fondamentale del sistema paese, nelle quali i soggetti per forze come...